ciao benvenuto in questo mio nuovo video oggi voglio mostrarvi come ho realizzato il touchpad e i copritasti per il mio notebook visto che ho deciso di modificarlo nel video precedente vi ho fatto vedere come ho realizzato gli stickers e ve lo metterò qui nell'info mentre nel video di domani non perdetevi la decorazione di tutto il mio notebook allora partiamo subito con il video di oggi per prima cosa entro su google e mi apro una pagina pinterest io ce l'ho qui ed eccolo adesso vado nel mio profilo e guardo tra le mie bacheche visto che ho diverse cosine già salvate allora decido di andare in wallpaper una cosa che vi consiglio se dovete fare il touchpad del notebook è quella di scaricare immagini già in orizzontale se invece come me le scaricherete così in verticale dovete ricordarvi poi di modificarle insomma per renderla in orizzontale ma adesso vi farò vedere tutto allora apri immagine un'altra scheda mi apro un po di immagini quelle che mi piacciono di più questa è bellissima apri un'altra scheda farò la prova con diverse immagini quindi vediamo allora questa è molto carina o anche questa ok come sempre vi ricordo che sul mio pinterest trovate diverse bacheche che vi possono tornare utili quindi vi lascio sempre giù il link in infobox allora come sempre clicco sui tre puntini e scarica immagine quindi le vado tutte a salvare sul mio computer questa di victoria secret è troppo carina andiamo in download ok eccoci qui visto che sono in verticale e non andrebbero bene clicco due volte vado su modifica immagine è semplicemente quello che vado a fare è di ritagliare la mia immagine e renderla orizzontale quindi faccio salva e faccio così con tutte le immagini che ho scaricato dopo che le mie immagini sono pronte vado ovviamente su publisher quindi apriamo il programma allora clicchiamo qui nuovo file mi avete chiesto se è gratuito praticamente publisher fa parte del pacchetto office per prima cosa devo crearmi un rettangolo quindi vado su inserisci forme come vedete qua ci sono tantissime forme che potete utilizzare ma io vado su rettangolo e mi creo momentaneamente una forma così a caso adesso clicco con il tasto destro del mouse e vado su formato forme e qui posso fare diverse modifiche cliccando su colore metto nessun riempimento tipo di composto ne metto uno sottile questo qui ad esempio mezzo va benissimo così verrà bello sottile e poi ovviamente clicco su dimensioni che la parte più importante per calcolarle ho utilizzato un semplice righello e approssimativamente misura 7,35 e come larghezza 10,5 e do l'ok ed ecco qui che si è creato il mio rettangolo che posso decidere di spostare ma io metterò qui al margine adesso devo andare ad inserire l'immagine precedentemente salvata nel pc quindi cliccando già sul rettangolo mi va direttamente in formato forma e qua posso sbizzarirmi e fare diverse cose ad esempio cliccando sul contorno colorato posso decidere vedete di cambiare colore ma io ovviamente lo lascerò nero in riempimento forma posso ad esempio colorarlo ma a me ovviamente non interessa farlo in contorno posso fare vedete diverse cose tipo lo spessore posso farlo tratteggiato c'è davvero tantissima scelta e in effetto forma vedete posso metterlo in rilievo contorni sfumati insomma è fantastico questo programma io lo amo proprio per questo comunque a me interessa aggiungere l'immagine quindi vado in riempimento forma clicco su immagine quindi da un file sfoglia e mi apro la cartella download dove appunto tutte le mie belle immagini salvate un attimo che ecco mettiamolo così e come prima immagine decido di provare quale quella col gattino però mi sa che questa verrà schiacciata no invece viene bene guardate che carina questa è semplicissima adesso io vi credo diversi rettangoli così proviamo diverse immagini vediamo quale mi piace di più proviamone un po proviamo la scritta chanel wow questa è troppo carina viene con lo sfondo rosa e poi questa scritta chanel glitterata sempre riempimento fotoforma immagine sfoglia download louis vuitton vediamo come viene o anche questa è molto verena vedete avendo le messe già in orizzontale il riempimento sarà perfetto invece se l'immagine in verticale il riempimento verrà schiacciato e l'immagine insomma non sarà bella wow questo è molto bello anche questo mi piace tantissimo proviamo l'ultima ecco qui ad esempio vedete questa un attimo che lo ingrandisco così ve lo faccio vedere meglio vedete che non viene bene perché la dimensione che ho fatto io per modificarla non è ottimale infatti l'immagine viene schiacciata con alcune può succedere però come vedete negli altri casi sono perfette e adesso ne sceglierò una che ovviamente dovrà abbinarsi anche alla tastiera e diciamo che è quella che mi colpisce di più è questa qui con la scritta dreams don't work unless you do e quindi questa la metto qui in alto perché sarà il mio touchpad ma ovviamente insomma non posso stamparlo così perché sprecherei un foglio quindi adesso vado ad aggiungere vari stickers e poi insomma lo stamperò ok ed ecco qui allora ho provato a cambiare il rettangolo e a metterlo direttamente così stondato però mi sa tanto che le dimensioni non rientrano comunque sarà una prova che voglio fare vi farò sapere se andrà bene o no ma secondo me è meglio insomma fare come vi ho fatto vedere prima quindi un rettangolo vero e proprio e poi stondarvelo voi dopo quando dovete andarlo ad applicare quindi ho aggiunto diversi sticker come potete vedere sono molto carini e qui ho fatto anche un'altra prova con altri stickers e la scritta questa di or sempre con il rettangolo stondato che però non lo so c'ho dei dubbi mi sa tanto che non coinciderà ma ci provo ugualmente quindi adesso passiamo alla stampa file stampa ed eccolo qui adesso invece passiamo a realizzare la nostra keyboard quindi a fare gli adesivi che ricopriranno i tasti ovviamente apriamo intanto google servirà il template della tastiera e quindi dovete sapere il modello del vostro computer scriviamo ok board skin proviamo a metterne uno dell'apple vediamo poi vado su immagini e ovviamente vado a cercarmi una tastiera da poter utilizzare e questo sarà il passaggio più difficile perché anche io ho avuto dei problemi insomma a trovare una tastiera valida da poter utilizzare perché deve vedersi praticamente solo la tastiera con i tasti ecco io ho trovato questa per il mio computer eccola vedete dovrebbe vedersi in questo modo così possiamo lavorare per modificarla e adesso passiamo al passaggio successivo ovvero scaricare le immagini da poter utilizzare appunto sulla tastiera quindi andiamo sempre su google e sul nostro amato pinterest e nella barra qui delle ricerche scrivo wallpaper rose gold perché sono le tonalità che voglio usare vabbè anche se sono in verticale basta comunque voi ruotarle dopo che si salvano altrimenti molto bella questa desktop rose gold sempre e così dovrebbero spuntare in orizzontale allora adesso devo trovarne una che mi piace bellina anche questa qui e dopo che ne ho trovato una che mi piace vado nella cartella download quindi tasto destro metto ruota a destra faccio la stessa cosa qui ruota a destra e anche qui ruota a destra adesso lo andiamo a provare sempre su google vado ad aprirmi i pc eccolo qui foto editor free online vado a edit foto ok open allora per prima cosa seleziono my computer devo andare ad aprirmi il file della tastiera che ho salvato eccola qui keyboard skin vado qui sulla cartella designer ad text sticker e immagini e clicco su aggiungi quindi foto quindi qui la prima come vedete io già ne ho caricate alcune allora vado in upload immagine e vado semplicemente a importare queste quattro che ho scaricato eccole qui allora come prima voglio andare a provare questa che è quella che mi piace di più è la trascino e semplicemente vado a sistemarla facendola facendola coincidere ecco qui quindi la allargo me la sistema l'importante è che copre tutti i tasti e adesso posso decidere insomma se mettere questa parte che è più chiara o la parte che è più scura ma io preferisco una via di mezzo adesso vado da questo lato dove c'è scritto normal darken e inizio a provarle finché non trovo l'effetto che mi piace allora se metto darken non si vede quasi niente multiplo invece così poi c'è lighten che praticamente copre tutto screen overlay solitamente io scelgo di mettere sempre o multipli oppure darken metto apply ok applichiamo se non sono soddisfatta del risultato lo ripeto ora se metto multipli vedete che viene molto più scuro rispetto a prima e niente quando sono soddisfatta del risultato clicco su save sul mio computer metto i guess quindi metto alta qualità salvo su computer e metto keyboard skin mettiamo gold rose e adesso posso praticamente provarne altri per vedere insomma quale mi piace di più eccola qui la keyboard skin vado qui poi clicco su immagini mi si aprono quelle che ho già caricato la metto su così e la allargo finché riesco a coprire tutti i tasti provo tutti i vari effetti finché non trovo quello che mi piace di più però non sono soddisfatta perché l'immagine mi sembra scura poco luminosa vado qui giù e posso vedete cambiare l'intensità il colore la saturazione la luminosità il contrasto e così insomma riesco a renderlo come mi piace posso anche decidere di sovrapporre un'altra immagine rifaccio sempre lo stesso procedimento vado sempre in aggiunta foto upload immagine e vado a caricarmi un'immagine in png che ho sempre salvato sul computer come ad esempio questo qui della chanel lo trascino e come vedete essendo in png non ci sono i bordi ecco quindi posso decidere come metterlo darken multipli così non si vede più screen ecco solitamente io lo metto in overlay così si vedono solo i contorni non è invasiva perché le lettere come potete vedere della tastiera si vedono ugualmente e posso sempre comunque cambiarlo perché se vado su ue me lo rende più chiaro più scuro anche la saturazione stessa cosa per il contrasto così viene più sul trasparente così invece viene molto più scuro e questo sarebbe il risultato ovviamente scaricando delle immagini in png cioè si possono mettere qualsiasi immagine cuori, farfalle, non so, topolino, cose della disney insomma si può davvero spaziare quindi salvato adesso vi faccio vedere tutte quelle che ho fatto perché ne ho fatte diverse c'è questa con queste sfumature e la scritta XOXO e poi c'è questa qui dove ci sono i cuoricini sempre tonalità sul rosa e questa qui semplice senza la scritta XOXO ma quella che andrò a stampare io perché tra quella che ho fatto e quella che mi piace di più e ce la vedo insomma veramente bene sulla mia tastiera è questa qui allora stavo saltando questo passaggio ma ho deciso di farvelo vedere ugualmente ovviamente cambia in base alle dimensioni delle vostre tastiere sempre in publisher nella pagina vuota semplicemente vado ad importare come ho fatto per gli sticker in immagini la tastiera quindi clicco sulla tastiera adesso mettiamo questa così tanto per distinguerla e come potete vedere è abbastanza piccola quindi non sarebbe adatta per il mio computer quindi che faccio semplicemente lo dubbligo quindi faccio copia e incolla così me ne creo un'altra e vado a vedere la dimensione di un tasto ipotetico ad esempio del numero 1 sulla mia tastiera del computer vado su inserisci questo è il metodo che sto utilizzando io magari ce ne sono altre pure più facili di questo comunque inserisco una forma tasto destro formato forme dimensioni qua vado a mettere 1,5 in altezza e 1,5 in larghezza do l'ok e questo è la dimensione effettiva del mio tasto quindi levo il riempimento cliccando sempre col tasto destro formato forme clicco nessun riempimento ok quindi questo lo scendo un attimino praticamente questa è la dimensione effettiva del mio tasto adesso vado ad ingrandire questa immagine finché non rientra in questa dimensione esatta così come potete vedere sembra che la dimensione sia perfetta dopo che praticamente ottengo la giusta dimensione devo andarla a dividere in due parti allora un attimo che questa qui la elimino perché andrò a dividere questa copia e incolla tasto destro qui su ritaglia e la vado a ritagliare così ovviamente la giro perché altrimenti non entrerebbe sì magari se la metto dritta non entrerebbe tutta in un foglio vado a fare sempre tasto destro ritaglia e voilà la forma ovviamente la levo perché non mi serve più metto taglia e in questa parte vuota posso andare a mettere altri sticker altre cose insomma perché non mi va di sprecare il foglio adesivo quindi adesso vado a mettere qualche altro sticker e lo stampo e devo dire che il risultato mi soddisfa molto spero quindi che il video vi sia stato utile se lo avete apprezzato lasciatemi un bel like per farmelo sapere e scrivetemi cosa ne pensate o se avete domande giù nei commenti quindi vi do appuntamento a domani per vedere la terza parte nella quale decorerò e trasformerò il mio notebook io vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao